Una riserva internazionale frequentata da un centinaio di specie di uccelli acquatici, fenicotteri rosei, roni, cavalieri d'Italia, vocette, gabbiani rosei, che trovano in questo luogo un habitat ideale per nidificare, per sostare durante la migrazione o per passare semplicemente l'inverno. La zona umida di Trinitapoli, tra le più importanti d'Italia, una delle principali rotte migratorie che uniscono l'Europa all'Africa, patrimonio da promuovere alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano attraverso i filmati proiettati durante l'evento Cult della Puglia e della Sesta Provincia, che ha legato la propria immagine all'attore Andriese Riccardo Scamarcio. Patrimonio naturalistico ma anche no gastronomia con il carciofo in copertina grazie alla promozione del carciofo violetto, prodotto tipico trinitapolese. Trinitapoli si trova in un punto strategico che deve essere sfruttato nella sua intierezza. Il turismo non può diventare soltanto un punto all'ordine di un programma elettorale e questo per noi non lo è assolutamente, anzi per noi è un rilancio totale della città e lo constatiamo ogni volta quando abbiamo delle saghe, abbiamo già diverse saghe a Trinitapoli, in particolare la saghe del carciofo e la saghe della cartellata che manifestano veramente l'attenzione di tanti cittadini pugliesi che aggiungono nella nostra città e rimangono sbigottiti di come è incastonata nella natura della nostra Trinitapoli. Un qualcosa di straordinario che parte appunto da un territorio meraviglioso, una piattaforma eccezionale che ci fa guardare la Murge, ci fa guardare il Gargano e all'interno di questa meravigliosa piattaforma abbiamo una pista ciclabile che ci consente di poter appunto non soltanto correre e fare sport e divertirsi ma di apprezzare per esempio i fenicotti rossi, di poter apprezzare le vasche, di poter correre in un parco naturale. La nostra zona umida, anche questa meravigliosa, un punto di eccellenza della nostra Trinitapoli dove si possono apprezzare sia una fauna sia una flura straordinaria e oltre a questo poi abbiamo chiaramente i nostri prodotti tipici che vanno dal carciofo a tutti quelli che sono gli ortaggi tipici della nostra città e oltre a quello che può essere il nostro prodotto eccezionale che è l'olio che noi cerchiamo di promuovere nell'intera regione e che viene apprezzato da molti. E' un binomio vincente quello tra la città di Margherita di Savoia e il ciclismo una sorta di marchio di fabbrica dopo i successi del Giro d'Italia del maggio dello scorso anno e del Giro d'Italia donne con la città del sale arrivo di tappa a fine giugno così come era stato per la carovana rosa sul quale si punta anche nel 2014. Il primo giro della Murgia con un percorso a tappe che toccherà i comuni della Batte e permetterà di mettere in vetrina le bellezze del territorio sarà tra gli appuntamenti con i quali si avvicinerà alla stagione estiva. In tre giorni, 4, 5 e 6 giugno, gli organizzatori della manifestazione supportata dall'amministrazione comunale di Margherita di Savoia sono sicuri di fare della cittadina termale la capitale del ciclismo amatoriale, tanto più cogliendo l'onda lunga dell'entusiasmo derivante non solo dalle esperienze recenti del Giro d'Italia, sia maschile che femminile, ma anche dal nuovo approdo in Puglia della carovana rosa con la prima tappa italiana a maggio prossimo dopo la cronometro in Irlanda. Il primo giro della Murgia è stato presentato in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la vetrina più prestigiosa oltre che adeguata per avvicinare all'evento sportivi e curiosi, perché con il Giro della Murgia non si punterà solo agli aspetti agonistici, ma ad un vero e proprio tour tra le bellezze del territorio. Così pedalando si potranno ammirare la zona umida e Castel del Monte, la costa che da Margherita di Savoia si spinge sino a Trani e le zone interne della BAT. Grazie anche alla presentazione del primo Giro della Murgia che era sede di partenza e arrivo a Margherita di Savoia, la città del Sale ha potuto essere presente la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nonostante il dietro fronte di Puglia Imperiale, ma se quello ciclistico sarà un appuntamento d'apertura dell'estate Margheritana, non mancheranno gli eventi che rappresenteranno delle vere e proprie tappe d'avvicinamento, dalla gara podistica Mare-Sale in programma domenica 2 marzo, alla seconda edizione del raduno Cinofilo, sino alla Sagra della Seppia, primo appuntamento dell'ormai consueto omaggio al mare.